I capigruppo delle liste civiche Progetto Lanciano e Rinnoviamo Lanciano affidano al loro leader la risposta politica a quei rumors che vorrebbero una forza d'opposizione vicina alla maggioranza che governa la città. Lo vice sindaco Pino Valente sarebbe la potenziale vittima sacrificale di un non meglio specificato inciucio tra PD e UDC, stando alla nota emessa da Valente che le manda a dire entrambi. Non ci siano fughe in avanti né si pensi di poter sostituire pezzi scomodi della maggioranza con nostalgici della poltrona che ora siedono all'opposizione di centrodestra. Cosa c'è che non va? Quali sono i temi sui quali vi scontrate? Sono temi che vedono una diversa impostazione proprio su alcune tematiche che ci hanno visto ad esempio sul cambio di denominazione della piazza della Vittoria. Ci sono state delle divergenze ma ripeto sono circoscritta ad alcuni argomenti. Abbiamo voluto prendere posizione perché i rumors o le voci che circolavano erano tante quindi di possibili avvicinamenti di pezzi dell'opposizione alla maggioranza. Noi abbiamo voluto ribadire con forza che i cittadini lancianesi hanno votato una maggioranza per un cambiamento. Quindi noi dobbiamo esaudire le richieste che arrivano dalla cittadinanza che è quello di una discontinuità rispetto al passato. Quindi eventuali aggiunte, eventuali collaborazioni con l'opposizione ci vedono assolutamente contrari. Ci vuole una distinzione dei ruoli, la maggioranza deve governare, una maggioranza unita, affiatata e l'opposizione deve fare l'opposizione. Anche se Casini e Bersani si preparano all'alleanza nazionale? Beh, a livello nazionale, che accada quel che accada, non certo possiamo influire noi a Lanciano. A Lanciano i cittadini hanno detto che la maggioranza è rappresentata dal centro-sinistra con le liste civiche e gli altri partiti con l'Udc stanno all'opposizione.